Bonifiche e delocalizzazione dell'impianto, comitati ambientalisti di nuovo in piazza per dire no all'ampliamento dello stir di piano d'ardine. Gli attivisti temono che il cosiddetto progetto di ammodernamento sia funzionale a stoccare una quantità maggiore di rifiuti. Sit-in questa mattina sotto la sede della regione Campania di Avellino in occasione della conferenza dei servizi. Al tavolo i comuni della zona, ASL, ARPAC e ASI, vicina a quella degli ambientalisti e la posizione del comune di Avellino, entrando all'incontro l'assessore Penna ribadisce sia l'ammodernamento tecnologico ma nessun chilo di rifiuto in più deve essere stoccato nella Valle del Sabato. La posizione è quella di sempre, è quella che abbiamo sostenuto sin dall'inizio e quella che ci portò nell'agosto del 2016 in tanti, migliaia di persone in piazza giù ad Arcella a fare quella manifestazione meravigliosa ma della quale purtroppo pare che nessuno tenga conto ancora oggi visto che non solo non procedono così come pure i comuni avevano chiesto alla delocalizzazione, non solo questo, ma stanno andando avanti con un ampliamento, con una richiesta di ampliamento che è un raddoppio praticamente dello stoccaggio, un raddoppio che poi non prevede nemmeno queste prescrizioni del tipo hanno previsto delle pensiline, teni presente le pensiline quelle? Eh, delle pensiline dove sotto metteranno la qualunque e secondo loro questo dovrebbe tranquillizzarci. Allora non solo questo non ci tranquillizza ma noi continuiamo con la nostra mission, con la nostra idea iniziale che noi non ne possiamo più.